Buonasera a tutti dalla Tg regionale per sordi bandiere a mezz'asta oggi alle 12 anche in Toscana in segno di lutto per le vittime del coronavirus e per onorare il sacrificio e l'impegno degli operatori sanitari. Il sindaco di Firenze Nardella come tutti i primi cittadini davanti a Palazzo Vecchio con indosso la fascia tricolore per osservare un minuto di silenzio. L'obiettivo è anche abbracciarci idealmente tutti per essere di sostegno l'uno all'altro, ha detto il primo cittadino di Firenze. Anche il sindaco di Pistoia Tomasi con indosso la fascia tricolore ha osservato un minuto di silenzio davanti al Palazzo Comunale con le bandiere esposte a mezz'asta. Analoga iniziativa anche a Prato con il sindaco Biffoni. Il minuto di silenzio sottolineato dai ritocchi della risorta, la campana di Palazzo Pretorio così come avvenne dopo l'attentato delle Torri Gemelle nel 2001. Ha aderito all'iniziativa anche il presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni che ha invitato tutti i toscani ad essere partecipi idealmente presenti con lui davanti al Palazzo del Pegaso. Momento di ricordo delle vittime del coronavirus anche a Pietrasanta con il sindaco Alberto Stefano Giovannetti. Bandiere a mezz'asta e nastro nero alla Casina dei Ricordi a Viareggio realizzata in ricordo delle 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009. E' annullata a Firenze la storica rievocazione dello scoppio del carro per il giorno di Pasqua. E' la più antica tradizione popolare fiorentina che si tramanda da oltre nove secoli e vuole ripercorrere le gesta dei fiorentini alle crociate e il loro ritorno in città. Lo ha reso noto ieri in Consiglio comunale il sindaco Nardella spiegando che dopo essersi consultato con l'arcivescovo di Firenze Bettori hanno preso la decisione di annullare la manifestazione destinando tutte le risorse economiche, cioè circa 50.000 euro invece in progetti sociali legati all'emergenza coronavirus. È stata definita l'Apletea dei beneficiari, cioè i nuclei familiari più esposti per attingere al fondo per la spesa sociale. Sono tre le aree di intervento e 2,4 milioni i fondi a disposizione per Firenze. Si tratta delle risorse per la spesa sociale connesse all'emergenza coronavirus. La prima fascia riguarda le persone già seguite o che sono ora intercettate dai servizi sociali o in stato di bisogno. La seconda fascia coinvolge chi in questa situazione di emergenza si trova con forti decurtazioni del reddito nello specifico persone che da febbraio 2020 hanno perso il lavoro oppure chi è stato messo in cassa integrazione. Partite IVA che hanno visto calare il volume di affari e lavoratori intermittenti che hanno avuto riduzioni nelle chiamate. La terza fascia invece si riferisce a tutta la platea di invisibili persone o nuclei familiari che vivevano di lavori nero o di espedienti. Si stima che il contributo a famiglia potrà valere 250 barra 300 euro. Quinto decesso tra i pazienti della RSA di Mucine, provincia di Arezzo, all'ospedale San Donato, era stato ricoverato ed è morto Ivo Giorgi, 95 anni, ex presidente della San Giovannese Calcio. Era uno dei due degenti della casa di riposo che erano stati portati in gravi condizioni in ospedale. Era considerato il presidente storico della San Giovannese, carica che aveva rivestito negli anni 70 e nella RSA di Bucine sono risultati in 30 positivi tra cui 22 degenti e 8 operatori. Intanto partiranno già da oggi gli esami a tappeto per gli ospiti e gli operatori di RSA, RSD, cioè le residenze per disabili, e le strutture sociosanitarie della Toscana a renderlo noto, la regione, il governatore Rossi, preoccupato per i tanti casi di positività che si sono proprio verificati in queste strutture, soprattutto nelle AS Toscana Centro e Nord-Ovest, ha deciso di far partire subito lo screening di massa nelle residenze sanitarie. Oggi stesso firma una nuova ordinanza che regola l'uso degli esami a tappeto e partiranno poi anche 5.000 test sierologici nelle aree più colpite dell'AS Toscana Centro e 1.600 in quelle della Nord-Ovest. Durante il fine settimana scorso è stato registrato in Toscana un diffuso e significativo incremento dei livelli di concentrazione di materiale particolato PM10, i cui valori medi giornalieri hanno superato il relativo valore limite fissato per effetto di polveri provenienti dall'area asiatica e dal Nord-Africa. Lo segnala un report dell'Agenzia regionale per l'ambiente, l'ARPAT, che parla di valori anomali. Il 28 marzo si è registrato l'evento picco e tutte le stazioni di rete regionale hanno superato il valore limite relativo alla media giornaliera di PM10 con livelli di concentrazione più alti da 6 a 14 volte rispetto alla media dei primi 5 giorni della settimana. Rimodulazione dell'orario della tramvia a Firenze a partire da domani con una frequenza delle corse ogni 8-9 minuti. Lo annuncia GEST dopo le recenti misure previste dal Governo per l'emergenza coronavirus con restrizioni agli spostamenti e la chiusura delle attività produttive considerate non essenziali. La decisione è stata presa anche a seguito della disposizione della regione toscana di ridurre ulteriormente il trasporto pubblico locale. Da domani sarà garantita una corsa tutto il giorno ogni 8 minuti per la linea T1 e ogni 9 per la linea T2. Non ci saranno interruzioni il servizio continuerà a viaggiare sempre tra le 5 e mezzanotte 30. È sospeso invece il servizio notturno il fine settimana ed è soppressa la fermata T1 Cascine. È stato prorogato al 15 aprile il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali su tutto il territorio regionale. La proroga di 15 giorni rispetto alla scadenza fissata al 31 marzo si è resa necessaria a causa del mantenimento delle attuali condizioni di rischio. E ora veniamo alle previsioni del tempo per domani in Toscana sereno o poco nuvoloso venti deboli o moderati settentrionali con locali rinforzi i mari poco mossi sotto costa le temperature minime in calo con possibili gelate nei fondovalle più interni invece le stazionarie rimangono massime. Per questa sera è tutto grazie per averci seguiti arrivederci